Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono in corridoio, infatti per questo la luce è un po' così perché è un corridoio cieco in cui ho un armadio, questo qui, un armadio a muro, qui il portagiacche, di qui la scarpiera Ikea con foto del nostro viaggio di nozze, tutte le nostre tappe messe in questa cornice multifoto di Maison Dumont, qui c'è anche una Carly sposa, ho due stampe qui, eccomi com'era quel giorno, ho un vestito largo in tulle effetto nuvola, qui c'è un compagno d'eccezione che sta facendo con me la marzupioterapia, cos'è questo? Questo qui praticamente è un dudu, quei peluscetti morbidi così, che deve assorbire il mio odore perché poi lo metterò nella carrozzina o nella cesta comunque di Giuseppe e così sentirai insomma a me. Mi hanno consigliato alle ragazze su Instagram non solo di dormirci ma anche durante il giorno di mettermelo qui addosso a me così si impregna del mio profumo e quindi oggi ho questo compagno con me, un attimo che lo sistemo, ok perfetto e niente adesso giro la fotocamera così entriamo nella cameretta e vi mostro come l'ho sistemata. Questa è la porta della cameretta, vi anticipo che la cameretta è particolare, non è soltanto una nursery, non è la cameretta classica perché io qui dentro avevo le mie cose del lavoro e quindi sono rimaste in questa parte della cameretta ho il mio lettino e mobiletti vari semplicemente perché comunque capita che lavoro qui anche se io spesso vado in giro però all'occorrenza avevo già le mie cose ma da anni, già da quando andavo a scuola di estetica sono cose che non posso buttare, quindi al momento ho qui le mie cose anche perché comunque lui un domani avrà la sua vera cameretta questa non è casa nostra, siamo in affitto, al momento poi dormirà con noi in camera nella sua cesta di vimini quindi mi serviva più che altro uno spazio per cambiarlo, quindi avere proprio il fasciatoio, una bella cassettiera per metterci le sue cose e basta, visto che la camera è molto grande e me lo permette allora ho puntato per questa soluzione intanto qui c'è un'altra porta con il bagno in camera l'appartamento ha tre bagni, abbiamo anche noi il nostro bagno in camera questo è più un bagno di servizio perché non lo uso ovviamente però è un bagno in più, sarebbe stato comodo avere uno scaponzino in questa casa però va bene così, adesso mi sarà comodo perché è vicino al fasciatoio e allora i mobili sono tutti quanti Ikea perché ho optato per Ikea, perché è pratica, è economica anche se comunque i mobili sono buoni io ho sempre comodo da Ikea, infatti anche la scarpera questa qui è Ikea ho il mobile in salotto per quanto riguarda la televisione che è Ikea e la cassettiera, quella lì, mi sento musica ah sarà giù vabbè comunque mi sono sempre trovata bene e anche e soprattutto per il fasciatoio perché non è il classico fasciatoio che poi una volta che il bimbo ti cresce ti resta un po' un mobile ingombrante ecco, soprattutto per quei mobili per quanto riguarda la linea baby molto baby che all'inizio fanno bella una bella camerettina però uno poi pensa a quando cresce che bisogna rinnovare completamente l'intera cameretta mentre qui questo alla fine è una cassettiera, è un armadio neutro che può tranquillamente crescere con lui nella cameretta anche quando sarà più grande questo è stato il mio ragionamento allora, nella colletta non c'è niente a parte il peluscione questo è stato il primissimo peluche che gli hanno regalato i miei genitori il bello è che io l'ho ricevuto a mio compleanno e infatti mi ricordo che scoppia a ridere dicendo ecco qua, già non mi pensano più io ero al quinto mese di gravidanza e comunque ero contentissima perché è troppo troppo bello c'è anche questa particolarità del cappello col pompon e qui ci va un bavaglino che ha preso mia mamma e ci sta ricamando il nome Giuseppe esce proprio con questo peluche poi come vedete manca Materasso, Paracolpi eccetera che voglio vedere con calma perché comunque io lo ordinavo molto online perché l'avevo visto tramite Youtube queste cose ero straconvinta, ho letto le recensioni però Materasso non l'ho mai visto ne è toccato dal vivo i Paracolpi, voglio vedere le varie fantasie magari anche se trovo qualcosa su Amazon insomma, la culla al momento non mi serve quindi resta così anche qui la cosa pratica, la cosa che mi è piaciuta è che ha due livelli adesso che è piccolo la barra, cioè il Materasso va a questo livello qui quindi io riesco a metterlo dentro tranquillamente nel momento in cui il bambino cresce quindi si inizia ad arrampicare va a livello a terra quindi diventa più alto per lui questo e quando invece cresce cresce io posso tranquillamente togliere questa sponda e lui così sale e scende tranquillamente dal lettino perché lì poi ci andrà questa base qui che mi hanno lasciato quindi il bambino poi sarà indipendente nel salire e nello scendere finché poi si è fatto grande e faccio il letto più grande ah, qui sopra, vabbè, a parte le riviste io e il mio bambino oggi sono passati una coppia di amici a trovarci e mi hanno portato questo regalino ragazzi, è meraviglioso perché poi lei mi conosce benissimo sa che sia me che mio marito piace tantissimo Londra io sono fissata cioè sono proprio fissata e quindi quando ha visto questa tutina della Chicco l'ha presa subito c'è questo particolare del gomito con la stoffa tartan qui come toppa bellissimo il papillon il cappellino e qui la stoffa tartan i piedini che sotto hanno la sua rossa e è meravigliosa il bello è che è 0 a un mese quindi io posso mettercela da subito infatti devo lavarla così poi appena possibile ce la metterò e sono stra stra felice allora il fasciatoio ho comprato anche in materassino Ikea si chiama Badra e magari sotto in descrizione vi lascio i nomi delle cose che ho comprato se siete interessate così potete trovarli facilmente poi anche qui c'è un altro giochino peluscioso fatto da amici di famiglia la cosa bella di questo giochino è che qui nella pancia io posso metterci il sonaglino della collana che si porta in gravidanza il richiamo degli angeli quindi io lo tolgo dalla collana e lo metto qua dentro così lui mentre gioca si ricorderà quel suono che ha sentito nella pancia poi ho ricevuto come regalo questo leone della Thun il nuovo modello che all'inizio sembra un panda cioè sembra un panda però poi c'è questa criniera quindi è il nuovo modello di leone perché lui essendo nato ad agosto è del leone è dal segno zidecale del leone quindi eccolo qui poi intanto al di sotto del fasciatoio ho appoggiato questo cestino che ha con dentro la crema per il cambio pannolino della veleda la calendula e l'olio bagno all'amido di riso se non mi sbaglio è l'unica e due cose che ho le salviettine rinfrescanti i pampers e i pannolini l'allo perfect sia della prima che della seconda misura quindi a momento io ho questo poi nel primo cassetto ho giusto tutti i campioncini che mi sono usciti nelle borse quando andavo al corso preparto o quando me ne dava mia suocera o alcune che ho ricevuto dalla sanitaria quindi tutti i campioncini per quanto riguarda olio bagnoschiuma creme protettive anche le salviettine della napisa ok questo è il suo primo accampatoio con i koala sarebbero quelli fatti a triangoli già bello lavato e sistemato ho questa pochette della tunna che mi è stata regalata e che userò comunque per metterci le sue cose altre salviettine questa è l'azione fisiologica che adesso io avevo anche come dire quello che pulire il nasino però è in valigia perché me lo porto con me a Roma perché se dovesse per caso uscire e non so se firmarmi a Roma eccetera insomma me lo sono portato perché così all'occorrenza ce l'ho e poi qui a parte i buoni sconto che mi sono usciti sempre da quelle borse della gravidanza ho delle traversine usa e getta altri regalini e il mini un regalino e il il mini kit per quanto riguardava l'ombilico il conto l'ombilicale che non ho mai usato ho già visto direttamente l'ombilico bello formato tranquillo mentre nel secondo cassetto non c'è assolutamente niente ok poi questa è la cassettiera famosa poi questa penso la conoscete tutti ho preso la doppia proprio per lo spazio così posso metterci anche le copertine le insolini insomma veramente più spazio non ho soltanto cassetti per i vestitini ma posso metterci anche appunto una biancheria questa è una stellina di mister wonderful che mi arriva con ordine penso che questo è il suo posto perfetto questa mongolfiera gonfiabile con il palloncino l'ho ricevuta quando ero recuperata in ospedale e quando è nato il piccolino questo è un regalo di mia zia l'esame della tun ed è personalizzato con il suo nome è bellissimo poi questo me lo sono fatto fare da mio marito tramite un suo amico grafico ed è un cartoncino di nascita perché appunto mi ricorda tutti i suoi dati il giorno e le ore in cui è nato quanto pesava quanto era lungo è bellissimo ovviamente devo comprarci la cornice e appenderlo questo è un altro meraviglioso regalo fatto dalle mie amiche youtuber e sono marichelle e lindy channel ed è il diario è il libro del primo anno un attimo che lo apro una mano è una mano difficilissimo è il libro di nascita insomma uno può metterci sia le cose prima della nascita quindi io incinta e scriverci le cose ovviamente attaccarci le foto è fatto benissimo è bellissimo prima dell'arrivo ovviamente è tutto in inglese foto 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 tema nuvolette perché sanno che ho adorato le nuvolette palloncini lefantini cioè queste erano come dire le cose su cui mi basavo anche qui vedete lefantino palloncino insomma così poi ci sta il divisore con scritto benvenuto al mondo ovvero quando è nato eccolo e tutte le cose che posso mettere vedete le foto le scritte qui queste nuvolette ci possono scrivere amici e parenti qualcosa per lui il mio primo anno perché qui ci sono gli adesivi per quanto riguarda ogni singola cosa tipo la prima festa del papà prima festa della mamma ecco la mamma il suo primo selfie primo Halloween prima Pasqua Natale perché sono adesivi effetto carta che poi si metteranno vicino alle foto vedete tutte le cosine carine vedete qua mi metto la foto posso mettere adesivo tipo il mio primo Natale e ogni mese ha quattro pagine tipo tre mesi ha queste due pagine e ha queste altre due pagine vedete sempre tre mesi e poi è difficile però eh con una mano oddio sono anche qua sinistra la sinistra io sono un po' imprevita questi sono quattro mesi bandierine nuvolette serine palloncini cioè è perfetto questo album veramente perfetto è bellissimo quindi non vi do l'ora poi di mettermi a stampare foto a scriverci e tutto mentre questa è la torta di pannolini che ho ricevuto da dei amici tedeschi viene proprio da Monaco di Papiera è ancora incartata perché voglio aprirla con mio marito giustamente non vi do l'ora di scartare per vedere quello che esce perché oltre ai pannolini sto intravedendo che ci sono dei calzini penso una tutina di quattro calzini dei ciucciotti sia qua che di qua questo è un biberon questo è un altro peluche mostriciattolo insomma non vi do l'ora di scartare questa bellissima torta e all'interno il primo cassettino piccolo ho messo i bodini questi qua che sono rimasti che sono rimasti sono quelli grandi 1-2 mesi 2-4 mesi quelli piccolini ce l'ho a Roma e poi li metterò qui in modo che sono vicina al fasciatore cui io mi giro e prendo il secondo cassettino ai calzini che sono rimasti qui con le scarpine che ha fatto la mia mamma ecco di qui poi qui se non mi sbaglio vuoto si poi è bellissima anche il rivestimento interno che non so se ci avete fatto caso è lo stesso che sta anche al fasciatoio bellissima questa cosa perché è tutto bello uguale l'ultimo cassetto invece ho questo che devo dare a una mia amica perché io ce l'ho in più che è incinta al momento ci sono tutti i giucciotti qua sia quelli usciti dalle borse gravidanza quelli che ho acquistato io della mamma tramite Amazon lì dentro c'era il leone della Thun questo anche è uscito da quelle borse gravidanza in pratica sarebbe un proteggi sole che si attacca alla macchina queste sono delle coppette assorbilatte questo l'ho preso al reparto di terapia neonatale e me lo sono letto tutto libricino e questo invece mi uscì dalla borsa al fasciatoio e ti fa vedere come massaggiare il bimbo per dargli sollievo ok poi qui ci sono gli abitini un po' più grandi ovvero 0-3 mesi questa salopette però era 2-4 mesi i suoi primi pantaloni amore eccoli qua le sue due magliettine felpine che poi le felpine ne sono tre ah sì perché queste qui sono quelle lavate mamma mentre io era a Roma la mia mamma mi ha lavato e stirato tutto in pratica questa qua appunto l'hanno regalata ai miei genitori ed è 1-3 mesi mentre qui sotto ci sono quelle un po' più grandi e da lavare perché sono stati dei regali c'è questa maglietta con il jeans quindi anche un jeans e questo qui è di di Obibi come marca poi qui ho invece la tutina intera di Winnie De Poo fatta dallo zio ovvero il fratello di mio marito questo è un bodino e poi c'è uscito il pantalone con pimpi qui e la maglietta di Winnie De Poo e questo è 0-3 mesi ma comunque va lavato ecco perché qui questo è il suo pigiamino di Batman anche questo è un po' più grandicello e poi ho un'altra felpina questa cosa me l'ha fatta la mia nonna con il pantalone con le stelline e sotto c'è anche la t-shirt che c'è scritto di allegria sono eccolo qua di allegria sono campione e poi ho anche i primi bavaglini sempre dallo zio il freddo di mio marito dei bavaglini per lo svezzamento quando mangiare le pappine questi sono quelli belli grandi questo qua è proprio originale di Disney questa pappina di Winnie De Poo poi da questa parte niente vuoto è caduta la stella e da questa parte vuoto prendiamo la stellina mettiamola qui ok e niente vi ho mostrato praticamente tutta voglio farvi vedere il fasciatoio come diventa quando io non lo cambierò più qua sopra quindi mi diventa mobile togliamo il baleone il giochino qui questo me lo giro adesso ovviamente io appoggio qua poi domani come vi ho detto non lo metterò qui ok e vedete semplicemente alzo questa parte la chiudo eccola qua e qua sotto si possono mettere pelucetti oppure scatole di giochi anche qua sopra qui si possono mettere i libri qualsiasi cosa che poi avrà allora io adesso ci metto queste cose qui sopra ok quindi questo è i tre pezzi ecco i tre pezzi che formano questa camerettina spero che il video vi sia stato utile che vi ho dato magari qualche idea o che anche voi come me state vedendo questi libri di video per capire come organizzare un'ipotetica cameretta io ho optato per questa soluzione poi magari quando sarà riempita anche perché voglio appendere delle cose mettere qui una mensola quando sarà piena di cose poi vi mostrerò meglio come sarà l'organizzazione e anche come mi trovo con il fasciatoio perché non l'ho ancora mai usato e quindi vi mostrerò e parlerò di tutto questo spero che il video vi sia piaciuto ci vedremo alla prossima ciao a tutti